eravamo rimasti come ci ricorda martin heidegger tutti noi in quanto esseri umani viviamo per la morte e per quanto ci sforziamo non possiamo allontanare dalla nostra mente tale consapevolezza ma oggi una schiera sempre più nutrita di persone consapevoli non si è stanca di ricordarci che la specie umana cui tutti noi apparteniamo si avvia l'estinzione trascinando con sé nella rovina alla maniera del capitano acab la maggior parte delle altre specie viventi eppure finora nonostante i loro sforzi questi nostri contemporanei non sono riusciti a trasmettere a città le consapevolezze il recente annuncio dell'agenzia internazionale dell'energia secondo cui la produzione mondiale di petrolio ha raggiunto l'apice nel 2006 ed è destinata a ridursi proprio quando si affaccia sul mercato del petrolio numero senza precedenti di paesi affamati di energia come la cina l'india o il brasilia non è stato alcuna preoccupazione tanto meno allarme nell'opinione pubblica nelle elite politiche negli imprenditori negli ambienti che fanno opinione ed è passato praticamente inosservato le ineguaglianze sociali farbbero rossiere di vergogna gli inventori del progetto moderno questa alla conclusione cui giungono michelle rochard dominique burgh e floren augenier nell'articolo intitolato la gian rumen menace pubblicato il 3 aprile scorso dalle mondes all'epoca dell'illuminismo di baccone cartesio e in nessun luogo della terra livello di vita era più che doppia rispetto a quello delle aree più povere oggi il paese più ricco